Presidente, un'altra riunione importante proprio per creare una strategia e potenziare le dorsali adriati. Sì, siamo alla vigilia di decisioni molto importanti, anche epocali, perché l'Europa sta ridefinendo con il governo italiano e con tutti i 27 paesi dell'Unione Europea la rete dei corridoi della mobilità, dalla quale la dorsale centro-meridionale adriatica è stata esclusa fino ad oggi, con grave documento per le attività economiche e per il diritto dei cittadini a spostarsi. La richiesta che le quattro regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, hanno unitariamente presentato al governo e all'Europa un anno fa a seguito di questa intesa e che ha rafforzato il negoziato nei confronti delle istituzioni nazionali e sovranazionali e oggi è un punto di svolta e noi attendiamo a settimane, quando sarà chiuso questo negoziato, una risposta positiva quantomeno per il prolungamento del corridoio che corre lungo la dorsale adriatica che sarà comunque l'infrastruttura, la dorsale, la spina dorsale attraverso la quale anche poi innestare i collegamenti trasversali verso il terreno e completare quindi quella rete di mobilità che darà maggiore competitività alle nostre aziende e ai nostri cittadini. Presidente, prima ha parlato anche di modello. Modello perché questa collaborazione istituzionale sta dando i suoi frutti, andare tutti insieme a reclamare con forza i giusti diritti di questo territorio ha reso più credibile e più autorevole la proposta e quindi anche l'ascolto da parte del Ministero, del Governo e io spero appunto conclusivamente dell'Europa stessa sarà all'altezza delle aspettative e dei bisogni. Sicuramente meglio del passato in cui queste regioni erano sole, abbandonate, marginalizzate, deboli perché alcune anche piccole o piccolissime e quindi con poca capacità di poter far pesare le proprie richieste sui tavoli che contano.